La notte non dormo. Vivo la vita come un forzato, la mia prigione è la solitudine. La notte non dormo e la luna come una sfera pesante si appende al mio piede. Mi attanaglia con la sua catena di luce e non posso fuggire, mi segue ovunque. Che devo fare? Commento. Ti devi chiedere perché sei in solitudine, pensando che nessuna esperienza è ingiusta ed esiste per portarti un germe di evoluzione.